Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in fiamme si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, sempre in direzione Roma ma a causa del traffico intenso code in uscita a Firenze Sud, in direzione Bologna 3 km di coda per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud e 2 km di coda a causa di lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Spostiamoci in Fipili dove ancora a causa di lavori 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in entrambe le direzioni. Chiudiamo con i cantieri di Firenze per il posizionamento di un autogru chiuso il controviale di Viale Matteotti tra via Fra Bartolomeo e il numero civico 22 Rosso. E per il momento è tutto, Muoversi Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!